Allora, io cercherò di dare un'impressione di visione, di uscire fuori da quelli che possono essere anche dei casi importanti, come quelli che abbiamo sentito, ma di guardare un pochettino in generale cosa vuol dire l'opportunità di creare un brand mediterraneo. Intanto cominciamo a sfatare un mito, l'abbiamo sentito prima da Avram, il brand non è un logo, non è un tratto grafico. Un brand è un sistema complesso, è qualcosa che coinvolge la sfera emotiva delle persone. Il brand in realtà non è definito dalle aziende, il brand è definito dal pubblico, è definito dal mercato. E allora forse l'opportunità diventa più evidente se la guardiamo in quest'ottica. Perché ci sono altre realtà geografiche nel mondo che hanno forse involontariamente già avuto un brand riconosciuto dal mercato. Se pensiamo ai Caraibi, nella zona del mare dei Caraibi, è il sole, è la spiaggia bianca, le palme, chi di noi non ha questa immagine dentro di sé? Quali sono i valori di fondo che potrebbe avere una zona come quella del Mediterraneo? Io ho provato a dare uno sguardo abbastanza superficiale, qui sicuramente ci sarebbe da aggiungere, ma l'arte, la cultura, non soltanto le spiagge, non soltanto le montagne. Si parla di Cipro, un'isola meravigliosa, ma ne potremo cercare tante altre, dalla Croazia all'Italia, alla Spagna, Israele. Allora, tutti questi posti hanno dei valori condivisi, che sono i famosi core values che possiamo prendere per fare un brand, sul quale costruire un brand. Ma non è così facile, perché in realtà ognuno di questi posti declina questi valori in maniere completamente diverse. Quindi dovremmo in qualche maniera, per costruire un brand del Mediterraneo, vederlo come una composizione di brand nazionali. Quindi cominciamo a vedere una piramide che nasce, cioè un brand generale fatto da brand nazionali. Ma credete che forse la Liguria e la Sicilia abbiano qualcosa in comune da questo punto di vista. E allora ogni brand nazionale dovrebbe essere visto come un insieme di brand regionali. Cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che la costruzione di un brand mediterraneo, che in realtà credo già esista sul mercato e nell'emotivo comune del mercato, perché vengono nonostante i problemi che ci sono nei vari paesi, le persone, può essere in qualche maniera l'opportunità per lo sviluppo di brand nazionali che rispettino le culture, le tradizioni, le differenze, che sono la vera ricchezza della nostra parte del mondo. Insomma, un vero e proprio approccio da marketing piramidale, niente di nuovo, ma qualche cosa che forse è sotto gli occhi che abbiamo tutti quanti davanti e che non stiamo guardando con la dovuta attenzione. Perché la grande potenzialità e la generazione del valore, come diceva prima un altro speaker, è quella della generazione del valore pratico per le persone che stanno a lavorare, perché il brand porta a dead value, a tutta la vendita del prodotto, dell'emotivo, del turismo, io mi occupo di turismo. Il branding è diventato in un mercato globale un fattore di competizione, ne parlava prima Tony. Per poter fare questo però dobbiamo fare cinque passi molto veloci. La differenziazione, perché siamo diversi dai Caraibi, perché siamo diversi dalle altre aree del mondo che si vogliono e si possono proporre come un brand. Questo l'abbiamo visto, ci sono dei core values. Dobbiamo collaborare e forse questa è la parte più delicata, no? Già in Italia non è tanto facile, figuriamoci se allarghiamo il discorso a una cosa più ampia. Dobbiamo innovare, perché l'innovazione è essenziale per evitare il rischio di un commodity business, quando tutti fanno la stessa cosa. L'unica differenza è il prezzo e allora si scende con i prezzi. Invece l'innovazione ti consente di vendere un sogno, di vendere emozioni. Dobbiamo verificare e coltivare il brand per poterlo creare veramente, in una maniera concentrica, perché l'esercizio non va fatto una volta sola, deve diventare una macchina, un meccanismo in cui le relazioni pubbliche sono il centro, perché non hanno soltanto una funzione di comunicazione interna tra i vari stakeholder che ci sono sui vari mercati, ma anche una comunicazione esterna. Quando si è creato il brand, poi bisognerà comunicarlo sul mercato mondiale, quindi c'è un fattore di coesione, di comunicazione interna attraverso le varie nazioni, le varie regioni e nelle varie regioni attraverso gli interlocutori. Come si diceva, per esempio, l'esempio del Veneto mi sembra perfetto. Quando si mettono insieme delle forze che sono in grado di condurre il gioco, il gioco viene condotto, c'è poco da discutere, ma c'è anche poi da portarlo sui mercati e far sì che quest'unica entità, se si riesce a creare, sia in grado di competere con le altre. Ho detto tutto e ho fatto meno di dieci minuti. Grazie.